Sono Laila Bauleo, sono presidente di Arte SSRL, una società costituita nel 2008. Ci occupiamo principalmente di formazione, consulenza e ricerca con specifico riferimento all'ambito turistico e abbiamo collaborato e collaboriamo con enti di rilevanza nazionale per quanto concerne nello specifico i fabbisogni formativi e professionali per quanto riguarda diversi settori. Siamo quindi coinvolti nell'ambito del progetto Aquats. Il nostro contributo come società è essenzialmente finalizzato all'individuazione di quelli che saranno i criteri per rendere operativi gli indicatori del sistema ECAVET e daremo un supporto all'analisi di contesto, visto che il progetto si riferisce al contesto turistico.